I meno giovani ricordano il mitico Maurizio Ferrini, rappresentante di Pedalò che duettava con Renzo Arvore in Quelli della Notte. Ferrini era il tipico romagnolo che da buon comunista anni 60, tutto d'un pezzo e abituato alla ferrea disciplina di partito, usava costantemente il noto tormentone, non capisco ma mi adeguo. Battuta che potrebbe andare benissimo anche in queste settimane per commentare le ultime decisioni del governo in materia di ripresa delle attività in presenza nella secondaria di secondo grado. Fino a pochi giorni fa si dava per scontato che si sarebbe ripreso a fare scuole in presenza già da oggi 7 gennaio. Poi all'ultimo momento il governo ci ha ripensato dicendo che forse a conti fatti è meglio aspettare ancora qualche giorno e così nell'ultimo decreto datato 5 gennaio si parla di attività in presenza per il 50% degli studenti ma solo a partire dal giorno 11. Su questa decisione un preside di Ravenna ha puntato il dito per definirla improduttiva, inconcludente. Probabilmente le parole sono un po' forti e non a caso una consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha già protestato vivacemente ma c'è un fondo di verità che il preside stesso spiega meglio in una circolare diramata nel giorno dell'Epifania. Se si può rientrare a scuola, argomenta il dirigente, è meglio farlo subito. Se invece non si può rientrare sarebbe bene procrastinare il ritorno in classe con un tempo adeguato e non per soli tre giorni nel corso dei quali la situazione epidemica generale non può certo cambiare. Ad un argomento del genere non c'è molto da replicare e a voler accettare le regole imposte dal governo non resta che dire non capisco ma mi adeguo. Il fatto è che purtroppo non è questo l'unico aspetto poco comprensibile perché ormai diverse decisioni appaiono dettate più da scelte politiche che da considerazioni scientifiche e organizzative. Ormai è chiaro che sulla scuola è in atto un vero e proprio scontro politico. Non a caso a mettere in discussione le decisioni del governo sono state innanzitutto regioni guidate dalla Lega, Veneto e Friuli, o dal centrodestra, Marche, dove si riaprirà a inizio febbraio. Ma per la verità le stesse forze di maggioranza non sono per nulla compatte, tanto che i due presidenti di regione meno allineati, e cioè Emiliano della Puglia e De Luca della Campania, non sono intenzionati a rispettare la data dell'11 gennaio stabilita dal governo. A tutto questo si aggiungono poi le manifestazioni di protesta promosse dal Comitato Priorità alla Scuola. A Roma la protesta è anche del coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto. Le manifestazioni sono sostenute dai sindacati e sono in corso in diverse città italiane. Gli organizzatori chiedono innanzitutto il rientro in presenza ma in sicurezza. È molto probabile che la situazione si chiarirà non appena si concluderà la vicenda della verifica politica interna alla maggioranza, di cui si parla da diversi giorni. Certo è che in caso di crisi di governo per la scuola potrebbe aprirsi una fase difficile con esiti del tutto imprevedibili. Su questo tema ovviamente continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, seguiteci anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Come al solito inviateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.